Gian Pietro Corbare, amministratore delegato di Pan Panorama S.T.A. Il 2019 riteniamo che sia un anno particolarmente complesso, è un anno in cui pensiamo che le dinamiche macroeconomiche e anche i consumi saranno sinceramente molto difficoltosi, infatti il 2018 ha avuto un calo di 1.8 sia a volume che a valore, il 2019 speriamo che sia meglio ma il trend che oggi vediamo e le condizioni macroeconomiche assolutamente non fanno presagire niente di buono. Per quanto riguarda invece le chiusure domenicali ritengo che siano assolutamente in questo momento delle teorie, in un contesto di economia che richiede un rilancio dei consumi le chiusure domenicali sono esattamente l'opposto, oltretutto hanno diversi impatti, impatti di carattere occupazionale, impatti relativamente agli aspetti dei consumi, per cui ritengo che le chiusure domenicali siano da questo punto di vista un punto negativo, ecco non ci sarebbe... Deve rifarla...